Siamo ancora tutti scioccati per quello che è accaduto. Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha ricordato così Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nella notte tra sabato e domenica in un albergo a Udine. Ci mancherà sicuramente, era un ragazzo benvoluto da tutti ha aggiunto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con l'Arsenal aveva sempre il sorriso, era sempre positivo. Cercheremo di andare avanti anche per lui.